Io sono stato molto contento di aver potuto partecipare a questa occasione perché a me pare che quello che è mancato nel nostro Paese è una sfera pubblica che discuta, pensi, che rifletta criticamente, perché una sfera pubblica e occasioni come questa sono proprio quello che mantiene una democrazia viva, che permette che un Paese cambi, ma cambi in maniera secondo delle ragioni, aprendosi anche delle prospettive sempre nuove. Quindi credo che la vita politica italiana abbia bisogno, più che di grandi cambiamenti di regole, abbia bisogno della crescita di piccole realtà come questa, in cui la gente si interroga su se stessa e sul proprio futuro.